ciao a tutti paolo gualla lds led di stato per la rubrica le sette app di questa settimana le sette applicazioni più interessanti selezionate partiamo subito gallery hd una galleria molto interessante con un rendering molto veloce vedete anche sul multifoto risponde molto velocemente a quello che è la galleria che viene aperta quindi si avvicina molto anche qui picche come velocità che il punto di riferimento sempre per quanto riguarda le gallerie vedete anche qua molto veloce nell'aprire le immagini allo scorrimento non ha nessun tipo di impuntamento anche nel pinch to zoom la trovo molto interessante può essere una galleria veramente alternativa a quella di android e anche qui picche da poter installare completamente gratuita tiratela scusa tiratela scaricata tiratela un po alla compagnia no scaricata pure dal market che è molto interessante quindi galleria hd seconda applicazione è una è un diciamo una ricerca libri gratuiti quindi questo archivio di libri gratuiti ricercabili da poter leggere direttamente vedete qua ci sono le storie che potrebbero interessarti le novità diciamo i più le quelli di tendenza poi possiamo anche andare a scoprire la nostra biblioteca registrandoci gli elenchi di lettura le novità le novità chiede la registrazione quindi no comunque per leggere un libro basta andare per esempio in questo libro che è bad angel 2 clicchiamo poi mettiamo leggi ci scarica direttamente il libro possiamo leggerlo tranquillamente quindi per chi è appassionato di lettura di ebook di libri da poter leggere su smartphone e tablet sicuramente questa applicazione non può mancare anche perché è gratuita poi qua ci sono anche storie simili per esempio toxic è un altro libro che possiamo leggere e via dicendo poi registrando ci sono più funzionalità comunque applicazione molto semplice vedete la grafica ben ben composta molto intuitiva qua comunque c'è una ricerca poter ricercare storie o persone e quello che volete direttamente qua di esce qualsiasi tipo di libro nella categoria da voi da voi ricercata un'altra applicazione trova prezzo l'ho trovato molto interessante un po simile a quelle che sono dove conviene tende o quelle dei volantini però in questo caso non trova prezzo online veloce quindi un database di prezzi molto molto interessante vedete qua ci sono già delle offerte per esempio noi abbiamo questo g2 a 332 euro clicchiamo sul g2 ci porta direttamente al negozio online che lo vende a quel prezzo dove noi possiamo poi fare l'acquisto che è il memtech in questo caso vedete quindi ci propone il miglior prezzo che c'è nel web il negozio che lo vende la descrizione poi ci sono anche maggiori dettagli possiamo aprire con maggiori dettagli sempre la pagina del venditore ci sono 6 euro 50 di spedizione quindi viene già un prezzo tra lo sconto la spedizione tutto diciamo definitivo in questo caso è 338 e 50 26 euro e 50 di spedizione e tornando indietro vedete grafica molto intuitiva si può cercare quello che si vuole si può andare anche indietro e impostare preferiti home cronologia l'account la gestione delle notifiche il contattici il riordino home page quindi semplice intuitiva vedete lg soundbar ultra slim col subwoofer adesso è a 209 98 anche qua si può andare direttamente nel negozio online che in questo caso è trova prezzi e ci red con scusate punto it ce lo dà a questo prezzo spedito con 200 euro 9 e 98 altra applicazione interessante flippagram che non è nient'altro che un raccoglitore di fotografie e video che può fare delle brevi clip anche solo con le foto aggiungendo anche musica in questo caso io ho messo un paio di fotografie resetto ricomincio sì vedete l'avvio è modo selfie quindi la cabina foto oppure facciamo l'avvio classico andiamo a selezionare un pochino di foto magari della galleria qui ci sono i foto mie foto di custodia ma prendiamo non so queste 5 6 fotografie così per intenderci fa un'elaborazione è molto interessante che ci sono già sei fotografie si va avanti successivo si inserisce un titolo mettiamo non so mettiamo lds lds ok fatto vedete qua c'è il titolo lds poi si può aggiungere anche un testo aggiuntivo una duplicazione eliminare andare avanti ruotare ecco fatto questo si può inserire una velocità della slide della presentazione oppure un audio non so se è una canzone qualsiasi la mettiamo eccoci qua recente audio vediamo cosa trova niente perfetto vediamo un attimo ancora la mia musica non ho canzoni comunque si può aggiungere eccolo qua renato 0 mettiamo renato 0 andiamo e sentiamo avete visto carino la musica che parte con le nostre fotografie ci sono le slide che vanno in consecutiva quindi si creano proprio dei liberi proprio video motion anche quelle fotografie con la musica quindi delle presentazioni molto carina applicazioni gratuiti che fanno queste cose non sono molto possiamo impostare una velocità quindi renderlo più lento e fare così quindi bello piacevole per creare momenti fotografie con delle slide secondo me l'applicazione molto interessante andiamo con morning kit che una sveglia particolare con il meteo in molto personalizzabile vedete ha una versione anche pro con più funzionalità però ci dice l'orario in questo caso di parigi e l'orario attuale i gradi dove sono io c'è la possibilità di impostare un allarme qua orario l'etichetta il tipo di suono lo snusso la vibrazione e il volume è ripetibile per tutta la settimana quindi qui diciamo l'impostazione classica della sveglia qua invece le funzionalità interessanti sono poter anche aggiungere molte città possiamo mettere anche roma come orario ovviamente la dovrebbe avere già trovato no lui vuole rom eccolo qua inglese ecco abbiamo trovato l'orario nostro quindi ha già trovato diciamo l'orario attuale nostro qua ci dà una serie di bbc news anche americane qua ci dà la nostra posizione attuale con il nostro meteo data calendario guardate veramente ci sono anche le news ci sono tantissime cose è una sveglia molto personalizzabile poi ci potete smanettare vedere voi aggiungere allarmi nuove vedete poi vi dà una serie di anteprime se prendete la versione pro o se non la prendete e quindi poi ci possono aggiungere più allarmi nella versione pro invece nella versione penso gratuita sia una sola ma è più che sufficiente per quanto riguarda il mio utilizzo quindi una sveglia un po particolare della grafica accatenante personalizzabile provatela un'altra è one football tutto sul mondo del calcio risultati in tempo reale partite classifiche per i partiti che in italia penso siano praticamente tutti questa è la classifica di serie attuale scusate ci sono uscito dall'applicazione le partite in casa vinte le partite in trasferta vinte la media punti tra casa e trasferta veramente tante statistiche varie vediamo un po assist prossimamente eccole qua abate osvaldo eccetera eccetera poi in base a potete cliccare anche vedere il tipologia di assist dati da ogni giocatore nella formazione dove gioca quindi secondo me è un'applicazione molto veloce soprattutto fatta bene che ha tantissime informazioni sul calcio qui ci sono le giornate quindi il calendario attuale tutte le dirette vedete alle 18 partirà Roma Verona poi l'Atalanta Juve quindi poi ci sarà la partita in live con tutti gli aggiornamenti con tutta la cronaca vendita è il migliore di Eurosport e c'è anche la chat per poter parlare quindi io ve la consiglio se siete appassionati di calcio è veramente bella vedete il tabellino è già tutto pronto ci può anche scommettere su quello che è il risultato c'è la diretta che dopo arriverà quindi un'applicazione OneFootball OneFootballShot quindi calciare, gol, prenderla, scaricarla ecco scusate la battuta ho voluto fare un po' di cavare ES File Explorer quindi gestore di file ultima applicazione da esaminare insieme anche questa qui è un'applicazione molto interessante è una di quelli con i feedback più alti con i feedback più alti è molto semplice vedete vi fa vedere subito il contenuto che avete nella vostra SD interna nella SD card se ce l'avete esterna quindi la micro SD si può vedere tutto dal download a tutti i file che avete ovviamente all'interno spostarli, copiarli è un ricerca file del sistema operativo veramente completo non ci sono tante cose da dire perché poi è personalizzabile ma è molto semplice da usare locale, libreria, rete, strumenti e preferiti comunque da qua poi potete rientrare in ogni cartella che voi avete bisogno ma è molto semplice e utilizzabile anche la fotocamera come potete vedere andate dentro ci sono le vostre fotografie anche le cose di Facebook che avete poi inoltrato dentro il sistema è tutto per questa puntata delle 7A per questa settimana grazie dell'attenzione come sempre da Paolo Guala LDS di Stato, ciao alle prossime